Bene ragazzi ci siamo in grado e adesso siamo tornati con un nuovo episodio dell'Ottedition One Siamo tornati E siamo tornati con porca Dai No vabbè ma che sta scherzando Diciamo che Ma hai visto? Ma porca tu Iniziano nuova stagione Iniziano a riempire Ma questo quanto ha speso? Le cose forti Comunque nuova stagione parte con l'entusiasmo All beaters Vero? Si L'entusiasmo pazzesco perchè sapremo che sicuramente Sarà una bellissima partita Perderemo Quindi Da una parte Dumbia Dall'altra di Maria Aguero Falcao Oh Oh Fabio Porca troia Subito in vantaggio C'è pure Runei? Si no c'è Runei di Maria Sarna Poi il gioco Tutti al centro campo Bravo arbitro Ah a come ero con persi è il voto d'attacco No ma mi spieghi perchè Dante Allora se sono vanno dietro e vado avanti A caso lo vedi Quando arriva al cross alto e Tu va a voto in avanti Fa un gioco De poco Ma no ma che stagione non era fuori gioco No no Vedi alcune cose è più bravo Va 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 Non lo so Rientra un bravo Non lo so 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 La lancia Ma che cazzo fa Ma che ritardato Grande Diego Talvez Stava Diego Lopez Diego Lopez Trapano Diego Loll Alves Diego Lallves Madonna mia Il passaggio di merda Bello Bello Dio Ho fatto la cazzata No no Eeeh No che fuori gioco No no Non fuori gioco E fa gol E' gol E' gol Non ci posso credere Incredibile Poi contro uno squadrone del genere Cioè veramente Non ci posso credere Giuro Dai sei tutto in via No 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 Non creda Sempre No No Dai non ce n'è andata Con questa squadra non te ne può No Cioè faresti proprio schifo Se n'è andata Vabbè Subito altra partita quindi Due vissati in uno Lo facciamo per farci riscattare della partita di merda Che vi abbiamo fatto vedere ieri Quanto abbiamo i primi tre punti della stagione Che non so da quant'è Parte bene Parte bene Parte bene ma saprete già che fra due settimane Saranno sempre in settima Sempre qua Sempre a dire la stessa cosa Vai così Calor Calor Mamma mia Questo freddo poi 38 Che cazzo è già sincronizzatore Dundee United Football Club 82 di valutazione Intesa 100% Del bosche Caglie con Vabbè un po' più normale di quella di merda Fernandez è un po' più baggato In difesa no in difesa non c'è problema In difesa oh porca troia Dai e dai e dai e Va vai Se abbiamo fatto 3 a 0 a quello Famo 4 a 0 per lui No a volte 3 a 0 a c'è il Bara FC Bara Che è lì no Che è stato Come vedo tutto Ah no Ma avete Bara E' ammorto Vabbè ma hai fatto una Bara Dettagli vai Un po' bruttino sta parlo Ma va bene comunque Va bene comunque perché Musa è scatenato Tira per cucane Ma chi è vitigno mamma mia Ma te dovrebbero impitare Ma io vitigno rivendo So 20 mila credi Ma infatti Ma basta un po' Mettiamo Musa GioC e me ne comprami niente a sto punto Perché perché ne è andato Perché Perché Grande Ma è mai bambi niente Ma è mai bambi niente Ma è mai bambi niente Ma non lo so Bambi niente No io l'ho da giù Perché non l'ho da giù Perché non l'ho da giù Che non sto a c'è E' presa Oh Ma bene così Ma puoi fare una cosa molto più semplice Non so quale Non so quale Non so Non so Uccide Ma qua Ma io mi ricordo Ma non so Ma io mi ricordo Ma non so Va bene così Va bene così Va bene così Vabbè Buona 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 Musa 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 Non c'è I pali de merda oh Ma perché Perché vi ha sti pali E' una mia sta fo... Dumbia carica il destro Dumbia Mamma mia E' una cazzo nata Va bene c'è sta eredità di noia che importa cazzo eh Ehh Che palla ho dato Guardalo Dai però No 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 Non so Ah l'ho visto Fatti Bello Bello Infatti l'ho visto partio L'ho visto partio L'ho visto partio Mamma mio Tu Gol Bumbia Mamma mia E' una tassaggio Ravani Ma perché sarà più facile Di merda Si è abbastanza brutto con lo cross però arriva lui Quas Jesus Ri Ma Vabbè Vabbè ma dai Regalato a lei di tevo gira No E' fatto Boh Oddio Oddio no 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 c'è noi voglio capire la palla dove ha sbattuto palo ha fatto palo cerchio che si incrociò io e vabbè poi ti hai fatto il palo interno dalla come cazzo l'hai visto il palo interno un palo interno palo gol si dice vabbè il gol è più strano di questa attenzione contro la fisica è felice qui mamma mia 4 a 0 incredibile incredibile che tra pari ragazzi 7 con le due partite avete avuto due partite quest'oggi quindi speriamo che siete contenti anche per scusarci che non ci sono stati due video questi video con me quindi perché stavo male non abbiamo dovuto registrare vabbè mi sto dirungando da cannes è tutto bello ciao a tutti ciao a tutti